E' un problema? Mi dai palla per favore? Che tipo di problema? Ecco, ho capito che sei arrabbiato, un bambino strano, dammi palla, ma poi hai fatto un errore grandissimo, che non sei andato a prenderla? Vabbè, vabbè, allora, ok, senti un attimo, siete dei grandi, guardate che non abbiamo ancora fatto l'inchino, vuol dire che non siamo ancora samurai, siamo pampersi in questo momento. Dobbiamo, perché diventare samurai è importante, cioè vuol dire questo, ma come ti chiami di nome? Stefano, Steven, guarda, vuol dire questo, dimmi dammi la palla, no, 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 tu chiedi a me, palla, io sbaglio, io mi sono abituato così, vado a prendere, torno, oh, scusa. Eh, perché se invece deve andare il massaggiatore, te lo dico il massaggiatore perché è sempre per me nel gruppo la figura centrale, no, perché sennò magari ti ho fai... Se deve andare comunque una persona che ha cinque volte la tua età oppure un adulto, non va bene, stavi palla. Allora, dentro...